A D'Angrigento alcuni interventi chirurgici protesici innovativi sono stati eseguiti al mattino di oggi nell'unità operativa di urologia e andrologia a cura del primario Michele Ruoppolo e del collega Gabriele Antonini di Roma e Cristian Gozzi di Bolzano, impegnati nell'ambito della terza tappa dopo novembre 2018 e febbraio 2019 del progetto cosiddetto Uomo in Forma. Anche quest'oggi si rinnova la collaborazione ormai assodata fra il professor Antonini che appunto viene a prestarci la sua opera e il reparto l'unità operativa di urologia e andrologia di A D'Angrigento diretta dal sottoscritto. Quest'oggi poi per la particolare ricorrenza del convegno auro siciliano che si tiene appunto quest'oggi che inizierà alle ore 14 abbiamo organizzato una seduta di impianto protesico tricomponente che appunto è stata eseguita dal professor Antonini in collaborazione col sottoscritto e nel corso della quale abbiamo anche dovuto affrontare casi abbastanza complessi di fibrosi cavernosa che appunto hanno richiesto un particolare impegno nella tecnica chirurgica. Beh io innanzitutto volevo ringraziare Michele Ruoppolo perché è sempre cortese, ospitale nei miei confronti veramente mi accoglie a braccia aperte. Questo ovviamente a prescindere dalla grande professionalità e dalla grande esperienza chirurgica. Oggi abbiamo avuto la possibilità di effettuare questi tre impianti due dei quali molto complessi per la presenza di fibrosi severa dei corpi cavernosi. Sono molto soddisfatto perché con questa tecnica mini-invasiva in un tempo relativamente breve riusciamo a correggere queste deformità del pene e anche oggi abbiamo salvato tre uomini e li abbiamo riportati a una nuova vita sessuale. Grazie Michele. Grazie. In occasione appunto del convegno auro regionale Sicilia abbiamo il piacere di avere qui con noi il professor Cristian Gozzi uno dei massimi esperti europei in chirurgia ricostruttiva dell'uretra e anche in campo andrologico. Quest'oggi il professor Gozzi è stato qui con noi in sala operatoria insieme al professor Antonini e gradirei appunto in base all'esperienza che lo contraddistingue se ci può dare un suo commento sull'attività chirurgica che abbiamo eseguito questa mattina. Grazie Cristian. Innanzitutto grazie dell'invito Michele. Come sempre viaggiare educa e ho visto anche oggi alcuni trucchetti molto importanti nell'impiantistica di protesi peniena che posso portare anche a casa un accesso anche particolare ci sono vari accessi a questo intervento ho visto l'accesso prepubblico eseguito con un'ottima maniera tanta eleganza e grazie di avermi invitato. Complimenti. Grazie.